Allora Molti meno omicidi, molto meno sparatorie, molto meno attentati, molto meno scena e sangue e molto di più infiltrazione nell'economia negale, negli appanti, nell'imprenditoria, nel mondo anche della pubblica amministrazione. Abbiamo avuto in sei mesi soltanto due omicidi di mafia, penso che sia un recordo storico. Sviluppare il massimo possibile dell'intelligence al fine della prevenzione, della prevenzione antimafia. Grazie Grazie